Vince! A sinistra il signor! A sinistra! Celso Maradino! 3-14! C'è la Marella! Posco Dio Picco! Forza ragazzi! Sono molto contento di aver venito oggi perché non c'era ci tengo più che altro anche perché lavoro qua, faccio il militare alla caserma battaglione di trasmissioni Ulture. E poi stamattina ho finito di lavorare alle 8 e ci tenevo a stare qua. È un'abitudine, l'ho vinto già 4-5 volte, adesso ho partecipato nel 2014 e oggi ho ripartecipato e ho vinto. Siamo diventati maggiorenni, dopo tanti sacrifici abbiamo raggiunto il primo traguardo importante. Speriamo che anche negli anni successivi ci sarà la stessa partecipazione che è sempre tanta e ci fa tanto piacere a dimostrazione che la nostra organizzazione sicuramente è capace di creare una gara molto lineare e bella. Pensiamo che dall'anno prossimo, essendo diventati maggiorenni, vorremmo fare un salto di qualità. Poi in corso dopo ne si vedrà. Anche quest'anno una grande soddisfazione, mille concorrenti. Abbiamo devoluto la quota di iscrizione in beneficenza alla fondazione Teleton. Voglio ne approfitto per ringraziare tutti gli amici che con un loro contributo hanno dato la possibilità di realizzare questa bella iniziativa.